Pescovo Lauro, insomma, nuove povertà stanno emergendo, non c'è solo quella economica che si diceva, ma anche quella relazionale? Sì, stanno emergendo nuove povertà dove quella relazionale sta diventando la prevalente. Quello che mi sta dando fiducia è che in diverse zone della diocesi, dei laici, stanno immaginando l'azione caritativa soprattutto come un ascoltare, un farsi prossimo. E nei mesi scorsi ho avuto l'occasione, in una zona pastorale, di vedere proprio un bel gruppo di laici, uomini e donne, soprattutto donne, che raccoglievano adesioni per dar vita veramente a un ascolto capillare del territorio e soprattutto per essere orecchio attento a tante situazioni affaticate, che spesso sono dietro a porte apparentemente tranquille, dove non si penserebbe ci siano grandi fatiche, ma in realtà dietro a porte molto lucide si nasconde tanta sofferenza, sia sul fronte del mondo giovanile come sul fronte del mondo adulto, ma soprattutto sul fronte giovanile, dove molti giovani cominciano a non uscire più di casa o presentano fatiche molto forti sul piano della relazione. Da questo punto di vista che Natale si prospetta? Spero si prospetti un Natale di speranza, non tanto perché la povertà è diminuita, probabilmente si è dilattata in questi mesi, ma perché vedo sorgere uomini e donne che cominciano a capire che non vale la pena vivere ascoltandosi, ma è necessario vivere ascoltando, perché ascoltando l'altro alla fine arrivo anche a capire me stesso. Vedendo quello che accade alle porte d'Europa si dirà che gli accoglienti sono sempre troppo pochi. Sì, purtroppo l'Europa, che chiamiamo vecchio continente, è davvero vecchia, prima ancora che anagraficamente, perché sta perdendo l'esperienza che l'ha caratterizzata tanto nel passato, della solidarietà e del sperimentarsi comunità. L'Europa è fatta purtroppo da tanti uomini e donne che stanno interpretando la loro vita come delle monadi che girano su se stesse. La vera carità per l'Europa sarebbe l'arrivo di qualcuno che la riporta a uscire a largo e a dire ai suoi figli e alle sue figlie dal vivere narcisisticamente attorno a te stesso non hai nessun futuro.